Un caffè che vale espresso scende moca sale Un caffè che vale non vogliamo farci mancare proprio queste grandi storie Insieme a Gian Ettore oggi cercheremo di capire cosa succede nella famiglia italiana Perché si generano queste guerre Cosa fanno gli avvocati quando sono specialisti per Cosa fanno gli italiani Sì Perché accadono queste guerre E cosa fanno gli avvocati Soprattutto se come Gian Ettore sono dei veri specialisti Per provare a derimere Per portare magari anche un aiuto E perché ad esempio Gian Ettore Gassani sta anche in AMI Che è questa associazione che guida gli avvocati matrimonialisti E cosa si sta cercando di fare Perché la cellula più importante della società Che è appunto la famiglia Possa avere un momento di salute in più Vedrete anche tutta l'attenzione di Gian Ettore Per il mondo dei bambini Spesso le prime vittime di questi momenti di fatica nelle famiglie Insomma un caffè davvero speciale Che farò un po' qui sui nostri canali Un caffè che vale espresso scende moca sale Serve a farci avere quella marcia in più Un caffè che vale senza esagerare Serve a questa Italia per tenersi su Un caffè che vale La famiglia è un elemento centrale della società italiana Il senso di famiglia è fra i sentimenti più forti di questo paese Non a caso anche il cinema racconta tantissimo Questo aspetto che oltretutto esportiamo nel mondo Eppure anche nelle famiglie italiane Qualche volta le cose non vanno per il meglio E quindi bisogna lasciarsi E lì succede qualcosa Possono iniziare delle guerre Guerre che possono essere come nel titolo di questo libro Intanto saluto il mio ospite Eccoti qui Gian Ettore Gassani Il libro si chiama La guerra dei rossi E c'è questo sottotitolo Gian Ettore ben trovato Che mi colpisce Racconti di famiglie di violenza Prima e durante il covid-19 Un tema che ha alleggiato Tu ne hai fatto un libro Perché? Beh, grazie dell'invito Questa trasmissione è meravigliosa È l'ennesimo sacrificio editoriale Io vengo da una storia di saggi Che poi sono saggi romanzati Perché definirli saggi Secondo me è riduttivo Io ho creato un libido letterario Il saggio con i racconti Storie di vita vissuta Nel mio studio Nel mio confessionale Nel mio pronto soccorso Perché il mio è un lavoro Che si fa con le persone che sono a pezzi Con le persone che stanno perdendo tutto Perché il diritto di famiglia È una materia drammatica Scivolosa Complicata E quindi Io mi racconto Faccio un po' come fanno gli avvocati anglosassoni In Inghilterra In Germania In Francia Gli avvocati scrivono molto E scrivono molto di se stessi E io ho iniziato a fare la stessa cosa in Italia A cosa serve questo? E a chi serve? Raccontarsi Scrivere libri E trasferire il proprio vissuto In questo caso condiviso col cliente Appunto in un libro Ma secondo me È molto importante scrivere Soprattutto per quei professionisti Che sono sotto pressione Come me Per gente che lavora 14 ore al giorno Che non ha fissa dimora Che è sempre con una valigia pronta Che oggi si trova a Roma Domani a Milano E dopodomani a Palermo È un atto liberatorio Racconto con un linguaggio semplice Perché io non uso l'avvocatese nei libri Uso l'italiano Perché questo è un libro che deve leggere la massaia Deve leggere l'ingegnere L'architetto Non necessariamente un giudizio Ecco perché i miei libri Hanno avuto un successo enorme Io per esempio con il penultimo C'eravamo tanto armati Ho avuto un premio Nell'aprile 2018 Al Festival Internazionale del Libro Di Cattolica Intanto ti faccio i complimenti Gian Ettore Da operatore della comunicazione Uomo di marketing Per i titoli Ma li scegli tu? Allora il primo libro I perplessi sposi Fu scelto da Paolo Guzzanti Che era mio cliente Non ha la sua vicenda familiare Infatti si stava discutendo Di quale titolo scegliere Per il mio primo saggio Perché un titolo rischia di vendere la metà del libri Di fare la metà della vendita Si viene centrato Certo Cioè il titolo è molto importante Come la copertina Sì Quindi per i persi sposi Fu veramente Un titolo straordinario Poi vi dichiaro divorziati Wow E invece di dire Vi dichiaro mai te mori Eh sì certo Bella provocazione Poi c'eravamo tanto armati Wow Invece c'eravamo tanto amati E così la guerra dei rossi La guerra dei rosis Titoli molto forti Che sembrano ironici Ma sono libri disperati Anche libri di storie Piuttosto drammatiche Ma sempre con quei dialoghi Tra clienti Ovviamente con nomi di fantasia Li colloco in altre realtà geografiche Per esempio Per Mina Welby Quando ho parlato di lei La storia con Pier Giorgio Nel libro C'eravamo tanto armati Beh Lì ho avuto La possibilità di intervistarla 40 pagine di intervista Credo in esclusiva mondiale Dove Mina Welby Spiegò A me Nel mio studio Tanti anni fa Quattro anni fa Neanche tanti Qual era proprio La sua vita intima Anche col marito Cosa significava Vivere con Pier Giorgio Welby In quel dramma In queste battaglie di civiltà Che lei ha affrontato col marito Quindi I miei sono libri Che hanno avuto Un grande successo Vedete Io quello che vorrei far capire Non soltanto Gli scrittori Danno emozioni A volte anche gli avvocati Quando si cimentano a scrivere Le loro storie Possono regalare emozioni Oltretutto Questo tradisce anche l'idea Che a un certo punto Dentro un mestiere Tu capisci che il tuo ruolo Non è limitato appunto Al tuo studio A quei casi Che pure segui Ma c'è una componente Del tuo lavoro Che può avere Una ricaduta sociale Ma non c'è dubbio L'avvocato è un formatore Delle coscienze Non soltanto uno Che dà consigli legali Io sono il presidente Di un colosso Che è Lami L'associazione avvocati matrimonaristi Che ha migliaia di avvocati In tutta Italia Sparpagliati Da Bolzano Che si parla tedesco E quindi avvocati Che parlano Di diritto di famiglia Anche in tedesco Ovviamente Fino a Trapani Cioè E siamo Un'associazione forte Perché anche multidisciplinare Quindi io gestisco Un'associazione Complicata Perché immagina Che cosa può significare Gestire migliaia di avvocati Ma trovo anche il tempo Per scrivere Vorrei anche dire una cosa Sui miei libri Io scrivo con carta e penna Wow Quindi proprio Hai bisogno della manualità Di scaricare Io ho un problema Di astigmatismo miopico Io dopo un'ora Davanti allo schermo Comincio a lacrimare Allora l'unica cosa Che posso fare È usare il foglio protocollo Uso bollo La mia penna E scrivo il libro In qualsiasi momento Cioè Riesco a rubare Frazioni di tempo Per scrivere Addirittura ci sono delle parti Poi tutto conservato Dove ho scritto Delle frasi belle Che a me sono piaciute Sui tovaglioli Bellissimo Bellissimo Perché Io sono un avvocato Che lavora In maniera totalizzante Quindi Quando però In un treno In una sala d'aspetto Nel viaggio Roma-Milano Perché io vivo Quanto ci hai messo Quanto ci hai messo Questo ad esempio Questo con lockdown Ci ho messo sei mesi Però ecco Questo è il libro Che ho cesellato di più A cui ho dedicato più tempo Più maturo Più maturo E soprattutto Ho avuto più tempo Durante il lockdown Io ho raccontato Quello che è successo Durante la pandemia Dove io racconto Un nuovo modo Di fare l'avvocato Prima di arrivare Alla pandemia Che ci interessa Perché è un tema E una dinamica Nella dinamica più grande Vorrei stare appunto Nella dinamica più grande Perché tu oggi Con l'esperienza che hai Puoi tracciare anche Un percorso storico Quindi Una domanda Che mi preme farti Sono convinto Che dall'altra parte Sono curiosi Anche i nostri Social spettatori E Com'è cambiato Il rapporto Col matrimonio Partendo anche Dagli anni 80 Da quando tu sei sul campo Forse anche qualche anno prima Fino ad oggi Cioè È cambiato il modo Intanto di stare insieme Anche il modo Proprio Di lasciarsi Che cosa Hai registrato Perché questo Ha un taglio Sociologico Ed interessante Ma io lo racconto Soprattutto nel libro I perplessi sposi Dove io parlo Dei profondi cambiamenti Culturali Di costume Nel nostro paese Dalla settanta Ad oggi Cioè da quando è entrata In vigore La legge sul divorzio Ebbene L'Italia è cambiata Moltissimo L'Italia non è più Quella di una volta Se prima il matrimonio Era l'istituzione Più invincibile Indissolubile Non è più così Prima di tutto Perché gli italiani Si sposano sempre di meno Avevamo raggiunto Il mezzo milione Di matrimoni Nel settanta Siamo arrivati Ai duecentomila Dell'anno scorso Quindi già La gente non si sposa più Come una volta Chi si sposa Lo fa con un ritardo Di dieci anni Rispetto a quello Che succedeva Negli anni ottanta Ti sposavi prima 24 anni Lui 21 Lei Oggi 34 Lui 31 Lei Già con dieci anni Di ritardo Se a questo aggiungiamo Che c'è una strage Di matrimonio Nel nostro paese Perché per esempio Nel centro nord 450 matrimoni Finiscono in tribunale Mentre nel sud Soltanto Tra virgolette 200 Questo segna Anche la profonda differenza Che c'è tra nord e sud Anche sul piano del matrimonio Ecco Cosa c'è di diverso Questa è un'altra È un'altra Bella palalzata Ma c'è questo Innanzitutto Io parto da un presupposto Che c'è un atteggiamento Consumistico Rispetto al matrimonio Questo avviene Nel nord E anche nel sud Cioè ci si sposa Senza consapevolezza I perplessi sposi Sono esattamente questi Io non sono preoccupato Del numero dei divorzi Sono preoccupato Per il numero Di matrimoni Fatti mordi e fuggi Senza neanche conoscersi Perché questo è il vero problema Tu non puoi disconoscere Il diritto di separarti O divorziare Se finisce il matrimonio Che vogliamo fare? Vogliamo tornare a medioevo? L'Italia ha introdotto Il divorzio in Europa Quasi per ultima Con 150 anni di ritardo Rispetto alla Francia Abbiamo introdotto Le unioni civili Per ultimi Nel 2016 Abbiamo introdotto L'affidamento condiviso Per ultimi Nel 2006 Quando c'erano state Convenzioni internazionali Per i bambini E per l'affidamento Dei figli Siamo sempre un paese In ritardo E quindi credo Che questi libri Questi miei racconti Parlano di questi cambiamenti Uno tsunami culturale C'è stato Che ha cambiato tutto Gianettore Tre aneddoti Un aneddoto Di una separazione Che hai seguito Anni 70-80 Uno 2000 E uno 2020 Per capire Attraverso questi aneddoti Quali erano le richieste implicite Come cambiava L'approccio mentale Quali erano i bisogni Che c'erano Se vogliamo In chi si separava Negli anni 70 Anni 2000 E 2020 Diciamo che io Ho iniziato a fare L'avvocato All'anno 94 Quindi È un'onda più lunga Certo Ho dei ricordi Magari di quello Che mi potevano raccontare Mio padre E gli altri Beh Diciamo che Nei primi anni Erano difficili i divorzi Erano pochi Perché sebbene Fosse stata Varata questa legge Gli italiani Ancora non avevano Maturato l'idea Che separarsi O divorziare Non fosse un fallimento È una sorta di Sì E Diciamo che Dagli anni 90 Ad oggi Molte cose sono cambiate Ecco per esempio Negli anni 90 Quando le donne Ancora Non avevano raggiunto Una Piena Indipendenza Economica Diciamo che La questione Degli assegni Di mantenimento È una questione Sempre molto Sentita E anche in tema Di affidamento Di figli Diciamo che I figli erano Considerati Soprattutto all'epoca Un bottino di guerra Dove Chi tirava il figlio Da qua E chi lo tirava Da là Aneddoti Che posso dire Certamente Una delle cause Che più mi ha colpito Ha riguardato Una sottrazione Internazionale Di minori Una donna straniera Che portò All'estero Rapì Possiamo dire così Due bambini Calabresi Li portò In un paese Dell'estero Per me Fu un'esperienza Tragica Perché ho Convissuto Il dolore Di questo padre Siamo riusciti Nonostante Tanti peripezie A portare i bambini In Italia A riportare i bambini In Italia Ma l'ho capito Che i bambini Erano già considerati Merce di scambio Anche Terreno di vendetta Se vuoi Non ti faccio vedere I tuoi figli E non c'è nulla di più Antisociale Nulla di più Criminale Che usare i bambini Per farla pagare All'altro E io Da questo punto di vista Sono diventato Un obiettore di coscienza Quando mi accorgo Che un cliente Entra nel mio studio E la mette sul piano Dell'affinamento Dei figli Come ricatto Come ridorsione Io non accetto l'incarico Io non accetto l'incarico Perché tu puoi discutere Su tutto Ma non sulla carne dei figli Questo ti fa davvero onore Perché credo sia un tema Davvero Che chiunque di noi Abbia figli Lo può capire Insomma i figli Andrebbero salvaguardati sempre No? E dovrebbe essere un fatto Solo tra genitori Ma la loro salute In tutti i sensi Assolutamente Poi io Un altro aneddoto Può essere quello Quando io Varie aneddoti Io difendo molti magistrati Molti avvocati Difendo molti giornalisti Politici Difendo tutti Ma è difficilissimo Difendere avvocati E magistrati Perché gli avvocati E magistrati Non sopportano L'idea di trovarsi Dall'altra parte E certo E non sopportano L'idea di essere clienti E io ogni volta Devo ricordare Che in quel momento La mia funzione È fare l'avvocato Quindi si separano Anche loro Alla fine E diventa difficile Gestire psicologicamente Questi professionisti Gianetto Le più complicati Gli uomini O le donne Tu hai clienti Alla pari Alla pari Io credo una cosa Che c'è sempre Meno differenza Di genere Uomo o donno Io credo in un unico genere Quello umano Wow Poi se sei una brava persona Questo non dipende Dalle tue genitali È vero E questa è un'altra Riflessione importante Vedete Il mondo Del matrimonio In fondo racconta Molto di più Del matrimonio in sé Racconta davvero Non a caso Della cellula No sociale Più importante Quindi anche di come è cambiata Questa società Ti sei fatto un'idea Di come è cambiato il paese È cambiata in peggio In peggio perché Era inevitabile che dopo la legge Sul divorzo Cambiassero tanti equilibri Ma non abbiamo fatto i conti Con altri problemi La solitudine Questo è un periodo di profonde Solitudine Di silenzi assordanti Dove ormai Non si mangia più insieme In famiglia Non si scena più insieme Si assorti nei propri cellulari Si è soli all'interno Della propria casa Spesso la famiglia diventa teatro Dei fatti più gravi Più efferati Più incredibili Se io potessi raccontare Nei miei libri Veramente quello che ho visto Altro che sceneggiatore Non uscire a fare Un'enciclopedia Di tutte le assurdità Che ho visto Nel mio prodotto soccorso Di avvocato Perché il mio è un prodotto soccorso E i miei clienti Sono pazienti Ed è vero che non c'è Fantasia più fervida Dei fatti reali In fondo Assolutamente Infatti vedi Mi colpisce Qua dietro tu scrivi O meglio Lo scrive Maurizio De Giovanni Che è un grande L'ho intervistato Un grande scrittore Quindi insomma Stasera ho un webinar Alle 16 secondi Wow Maurizio è davvero un grande E Maurizio scrive dietro Questo tuo ultimo libro Ogni singola storia Ogni fatto di cui Gianetto Regassani Vi racconterà Vi sembrerà Venire proprio Nel vostro palazzo Sul vostro pianerottolo Nell'appartamento Di fianco al vostro E magari Sarà proprio così Che cosa accade Ecco raccontaci Un aneddoto Ad esempio Di questi Di quest'anno terribile Che in molti Hanno detto No Chissà cosa accadrà In queste famiglie Chiuse forzatamente Dove già si faceva Fatica prima Cos'è accaduto Gianetto Ma è accaduto Ma è accaduto di tutto In effetti innanzitutto Io mi sono dovuto inventare Un nuovo modo Di fare l'avvocato Hanno chiuso i tribunali Ma i nostri studi legali No Quindi noi avvocati Abbiamo continuato a lavorare I nostri telefoni Erano bollenti Per cui Per esempio Mi è capitato Di dover Tutelare Una donna a distanza Mi aveva scritto Una sera Un messaggio Su whatsapp Dicendo di essere stata Massacrata Ribotte dal marito E a un certo momento Io sapendo di non poterla Ricontattare a casa Perché il marito Avebbe ascoltato La telefonata Gli ho dato appuntamento Davanti a un supermercato Sono sceso dal mio studio Ho dovuto inventare Con la mascherina Un nuovo modo Di comunicare Con una donna Che aveva necessariamente Bisogno di aiuto Pazzesco E l'ho aiutata Abbiamo anche presentato Denunce e ricorso L'ho fatto anche con altre persone L'hanno fatto tantissimi avvocati Perché gli avvocati Hanno fatto la tua parte Durante la pandemia Non tutti Lo hanno ricordato Ma quanta gente Ci ha chiamato a qualsiasi ora Il giorno della notte Certamente non ci ha pagato E a gente che non potevamo Neanche incontrare Abbiamo fatto il nostro lavoro In silenzio E è un lavoro socialmente Troppo importante Perché c'è stato Un aumento del 70% Dei violenze Rispetto al 2019 Un aumento del 15% Dei femminicidi Un aumento del 30% Del numero di separazioni E addirittura purtroppo La coltellata finale Al matrimonio È stato il fatto Che 30.000 matrimoni Siano stati rinviati Per il covid Quindi una coltellata L'istituto del matrimonio Incredibile Hai citato il termine Stavo proprio per farti la domanda Femminicidio Ecco credo che tu ti sia fatto Anche un'idea Sul perché C'è stata questa escalation Ora non so dire Se oggi se ne parla di più È diventato più mediatico Il racconto O c'è sempre stato Ma ecco Soprattutto perché accade Tu che ci stai dentro Che vedi questi dibattiti Tra trapparti Ecco che idea ti sei fatto Perché a un certo punto L'uomo in particolare Mediamente Finisce per arrivare all'estremo Ma la violenza di genere È la vera emergenza nazionale E non soltanto legata al covid Il covid l'ha esasperata Perché certo Vivere agli arresti domiciliari Per tre mesi Magari in un appartamento Di 70 metri quadri Cinque o sei persone Funge da effetto detonatore Però la violenza è sempre esistita Io ho dedicato la mia vita Professionale Insieme all'AMI La mia associazione Per discutere Di questo problema sociale Che nasce Da una sottocultura sociale Perché per molti uomini Per molti maschi italiani La donna è un oggetto Se la donna dice basta Scatta la vendetta Che può essere psicologica Economica Fino al gesto estremo Quindi Noi dobbiamo lavorare Sulla nuova cultura sociale Cominciare a lavorare Sul nuovo modo Di stare insieme Uomini donne Già da quando I maschietti iniziano a camminare Quindi c'entrano molto Anche i genitori Anche i genitori Padre e madri Che devono dare valori diversi Perché anche una madre sbagliata Che non sa educare Il proprio figlio maschio Può essere complice Di certe nefandezze Al pari del padre Cioè noi dobbiamo Innanzitutto Cambiare le favole Basta con Biancaneve E Cenerentola Perché è proprio la favola Che ti dà l'immagine Uno spaccato della donna Che deve cercare A tutti i costi Il principio azzurro Per uscire fuori Dall'anonimato O per dare un senso Alla propria vita Io che sono padre Di una figlia Ho sempre detto a mia figlia Che la prima cosa Che deve fare È la propria libertà La propria indipendenza E la propria Realizzazione professionale Il matrimonio viene dopo Non deve essere l'uomo A darle un valore È lei che ha valore Questo è il discorso Bisogna cominciare A far capire A maschi e femmine Che il delitto d'onore È stato abrogato nell'81 Ma per la cultura Di molti uomini Esiste ancora Il delitto d'onore Perché farla pagare Ad una donna Che ti ha lasciato Uccidela ogni 74 ore Una donna viene uccisa In Italia Per questo Abbiamo parlato Di femminicidio Che è il caso estremo In cui l'uomo Ma anche le donne Sono violente Ecco questo stavo per dire L'uomo mostra il peggio di sé Però in effetti Poi la narrazione A prescindere dal femminicidio Orrendo assolutamente La narrazione spesso È andata quasi sempre Nella direzione Questo è sbagliato Di un uomo Colpevole Di un uomo Che doveva pagare Forse il prezzo Anche più alto Ecco È cambiato qualcosa Su questo Non c'è dubbio I figli I casi più Discussi Parlano di donne Che uccidono i figli Ci sono donne Violente anche psicologicamente Anche nella contesa Dei figli Quindi attenzione A non fare Un discorso di genere Di basso livello Che a me non interessa Certamente la donna Deve essere tutelata Perché è Indubbiamente La vittima principale Ma mai Possiamo arrivare A pensare Che la violenza Sia solo un fatto Di genere Di genere Maschile Questo non è così Per chi fa questa materia Sa che a volte La violenza Delle donne È ancora più sottile In certi casi E non per questo Non deve essere Sottolineata Senti Nel derimere I contrasti Tipici Di chi Si rivolge Poi a te Dov'è che fai più fatica Dov'è che si inceppa Il meccanismo E magari fai fatica A portare fuori Entrambe le parti In un'ottica Se possibile Di guin guin Io faccio di tutto Perché si possa trovare Una soluzione Perché in queste materie La separazione Il divorzio Ma tante altre materie Perché io mi occupo Anche di successione Di diritto di famiglia internazionale Di penare la famiglia Anche per chi fa il diritto di famiglia Non è che fa solo Separazione e divorzio Fa centomila cose Il trust Tutte le questioni patrimoniali Bene Io cerco sempre Di evitare lo scontro Perché in questa materia Non si vince Non si perde Si perde sempre Cioè Non si vince mai Perché si perde Per il solo fatto Che la famiglia Si sia disgregata Detto questo Troviamo una soluzione Quando invece La famiglia entra Nel tritacarnare Il tribunale È la fine Allora Il grande avvocato Sa mediare Ma per mediare Bisogna essere due Grandi avvocati Perché se io vado A fare una separazione Con uno che si occupa Di incidenti stradali O di condomini È difficile Che troveremo un accordo Perché lui Non è addestrato Al dialogo Non è addestrato Alla mediazione Lui fa l'avvocato E te ne capita Con onore Ma lo fa Perché è abituato Mentalmente Come formalmente A dover portare a casa Un risultato A tutti i costi Nella nostra materia Dove noi siamo Avvocati un po' particolari Psicologi Sociologi Siamo molto attenti E soprattutto abbiamo paura Di dove possono portare Certe cause Se io mi interfaccio Con un avvocato Amatico analista Io risolvo il problema In 30 secondi E quindi mi stai dicendo Che ci sono ancora Tante coppie Che si rivolgono All'avvocato generico Al cugino Oppure vanno su google Oppure vedono L'amico del paese Cioè non si rendono conto Che l'avvocato È come il medico Se uno ha un problema Al cuore Va dall'ortoperico Va dal cardiologo E come mai Se tu hai un problema Di famiglia Dove bisogna essere Specialisti E preparati al 100% Per essere anche Pronti a capire Che cosa ha detto La Cassazione Un minuto prima Come puoi andare Da uno che si occupa Dei condomini Se hai un problema Di abusi sessuali È un suicidio Ma questo Anche gli italiani In questo Sono purtroppo particolari In tutti i settori Perché vogliono risparmiare Anche sull'avvocato E la tutologia Per loro L'avvocato bravo È quello che non li fa pagare Quando invece Tu non paghi l'avvocato Dopo che ne pagherai 100 Per venerti a salvare Quando sarai in carcere O hai perso tutto Assolutamente sì Questo mi fa pensare Anche che non si considera Tutte le ore Che lo specialista Passa A fare lo specialista Tutto quello Che impari Nei tribunali Che impari Dentro queste Che esistori Che affronti Io scrivo A pagina 86 Di questo libro La guerra dei rossi Dico Io vorrei che un magistrato Mi seguisse E stesse con me Dalla mattina alla sera E mi seguisse Per tutta Italia Tra interviste Convegni Scadenze Attesi davanti All'aula del giudice Alla fine di questa settimana Avrebbe una venerazione Per noi avvocati Bellissimo Perché io non so Che cosa sia un pranzo Se non ogni tanto Mangio i panini Con tre morsi Al primo bar utile A volte Mi sveglio negli alberghi Non so dove mi trovo Perché ho dimenticato Dove sto Se sto a Pato O sto a Corotone Non lo so Gli alberghi sono tutti uguali È una vita difficile Il messaggio Che voglio mandare Ai giovani Che ci stanno seguendo Che la vita Non ti regala nulla Questo è molto bello Detto da parte tua E poi è soprattutto dimostrato Ma la cosa interessante Di Gianettore Che anche Ha mostrato un modo Di essere professionista Oltre che avvocato Che è molto Moderno Molto innovativo L'idea ad esempio Che il mercato Anche se Per uno come lui È nato sotto casa Non è finito lì E che ad esempio Gianettore non a caso Oggi è un matrimonialista Nazionale ed internazionale Ha capito che cambiava il mondo Ecco questo Ai colleghi Avvocati Che ci seguono Che magari stanno studiando Per diventare avvocati E in generale Ai professionisti Un messaggio Sulla tua esperienza Perché A un certo punto Ti sei Dato uno studio a Roma Uno studio a Milano E viaggi anche all'estero Così Solo per passione Oppure No io Devo confessare una cosa Io Prima che morisse mio padre Volevo fare l'architetto Addirittura Bellissimo E detestavo Quello lavoro Il mio padre Perché lo teneva lontano Per il pericolo Eccetera Eccetera E' morto mio padre Io Ho seguito le orme Del mio genitore Matrimonialista anche lui No lui era penalista Penalista E a un certo punto Me ne andai Dalla mia città di origine Salerno Per trasferirmi nella capitale Roma Era un sogno Ma è stata difficile Perché io per poter Studiare E per poter arrivare A quello che sono arrivato Ho dovuto poi inventarmi Mille lavori Perché con la morte Il mio padre L'economia della famiglia Era purtroppo Diventata piuttosto precaria E ho dovuto studiare E lavorare Io per esempio Ricordo l'aneddoto Di quando ho servito Buono Vespa Da cameriere All'hotel Summit Di Gaeta 1992 Io ho servito Buono Vespa Vestito da cameriere Va bene Bellissimo E l'ho servito Poi una settimana E lui mi regalò 15.000 lire Di mancia Quando mi ha invitato A porta a porta Trenta anni dopo Si è ricordato No lui non si è ricordato Ma gli ho tirato fuori Le fotografie E lui ho detto Ma presidente è lei Sono io Allora lui mi ha guardato Lui ha capito Qual è la parabola della vita Che magari un povero Cameriere qualsiasi Magari uno maltratta E uno che sta sognando In quel momento Sta progettando La propria vita E te lo ritrovi Nella terza camera televisiva Bellissimo Nella televisione Nel programma più importante È l'esempio Che io voglio lanciare I miei figli Nella vita Nulla ti è regalato Ma ci devi credere E non sono Sai Ecco Colgo l'occasione Per chiederti Cosa si impara Facendo il cameriere Perché a volte viene Bistrattato questo lavoro Invece lo trovi Nel DNA Delle storie più belle Scavi scavi Riavvolgi il nastro E trovi Tanti imprenditori Partiti da quest'umile E glorioso lavoro Si impara I lavori Di fatica Ti insegnano Tante cose Ti insegnano Anzi Al concetto Di cameratismo Eravamo tutti insieme La sera Ci si divideva Le mance Il più Anziano Prendeva la parte Maggiore Ma poi Indipendentemente Da quello che noi Avevamo realizzato C'era La solidarietà C'era la fatica C'era il sudore E quindi Quando tu vieni Da queste esperienze Come ho scaricato Anche i cameron Ai mercati generali Wow Quando vieni Da questa esperienza Poi Hai una rabbia Dentro Hai una Una marcia in più Che non finisce mai Ed ecco perché Tutti noi Dovemmo fare Queste esperienze Lavorare Al fianco degli altri Io sono abitato A mangiare pane Olio O caviale Per me la stessa cosa Bellissimo E quante volte Porti dentro Una controversia Nel tribunale Con un tuo cliente Magari anche Un pensiero Che hai maturato Proprio mentre facevi Il cameriere Ma io Penso sempre che Non c'è nulla Di più pericoloso Di un cafone arricchito E il cafone arricchito Maltrata sempre Il cameriere Lo vedi subito Da come tratti Un cameriere Se tu invece Riconosci la sua dignità Perché in quel momento Lui sta lavorando Ti sta servendo Ma sta lavorando E sta facendo Un lavoro nobile E lo tratti bene Come Bruno Vespa Fece con me Tu capisci Il livello Di una persona Da come tratti Gli umili Capisci chi sei Fantastico Siamo insieme A Gianettore Gassani Punto di riferimento Tra i matrimonialisti Italiani Ma anche Avvocato Che ha mostrato Come In questa categoria Si possa anche Evolvere ulteriormente Diventare mediatici Ma direi Ecco e te lo chiedo Mediatici nel senso Più bello Del termine Perché a volte Anche la mediaticità La si cerca Così Perché un po' Di egocentrismo Ce l'abbiamo Tutti I professionisti Ecco invece Ecco nel tuo percorso C'è qualcosa di più Cosa? Ma innassoluto Bisogna evitare La sovraesposizione Mediatica Perché poi Sortisce in effetto opposto Avendo sempre Lavorato con molti giornalisti Mi ho detto stampa Grigo Sarsanini Che è un nome A Roma In Italia Sappiamo benissimo Che essere troppo in tv Neanche fa bene Però ci devi andare Quando è il momento Se tu rappresenti Tra l'altro Una sorta di sindacato Di categoria Quello dei matrimonialisti Un'associazione Così importante Devi anche Veicolare dei messaggi Perché il diritto Di famiglia Appartiene a tutti Non raccontare Che cosa dice la legge Su quelle che sono Gli aspetti più importanti E la vita degli altri Significa Fare in meno Anche un servizio Sociale Di informazione Dire che cosa significa La violenza Che cos'è un assegno Di mantenimento Cos'è l'affidamento Significa Dare un servizio Andare in televisione A fare i processi in tv O a dire Quanto sono bravo E quanto sono bello Con il proprio cliente a fianco Questo è un fatto Che secondo me Non è deontologico Ci hai detto all'inizio Che sei cresciuto a Salerno Non posso non farti una domanda Sul caffè Insomma siamo Campania ragazzi Qui lì il caffè Veramente A Milano Ci sono molti campani Però a Milano Ce ne sono comunque tanti Te lo chiedo fra un po' 15 secondi Un saluto Al nostro sponsor 101 caffè Poi torniamo insieme A Milano Gianettore Gassani La guerra dei rossi Questo è il suo libro E' qui con noi Perché insomma Mi piace andare di prima mano A capire cosa c'è Ad esempio dentro un libro E dentro una professione Lo stiamo capendo oggi Insieme a Gianettore Ci rimangono ancora Un po' di minuti insieme Intanto però Qual è il tuo rapporto Col caffè Immagino che tra una causa E un appuntamento Con i clienti Di caffè Ne arrivano tanti Il caffè Per me che sono Di origine campana Anche se la mia famiglia È un po' sparpagliata E proviene da varie regioni È tutto Tant'è vero Che ho le mie macchinette Nei due studi Roma e Milano Ho le mie cialde Non posso farne meno Certamente Quando vado in qualche bar E vedo che il caffè E sento il caffè Non è buono Insomma Ci rimango male Gianettore Diamo qualche Manuale per l'uso Dall'altra parte Ci ascoltano persone Che magari sono in crisi Proprio in questo momento E magari sperano Di derimerla Quella crisi Oppure sono usciti Da un momento di crisi Ecco I tre errori Capitali Che vedi fare Da non fare Qualche consiglio A chi è dentro Un momento Di fatica Relazionale Gli errori Che non deve fare L'avvocato O il cliente Il cliente Prima e poi L'avvocato Ma il cliente Il primo errore Che non deve fare È scegliere un avvocato Se è simpatico Se è amico O amico degli amici Deve scegliere uno specialista Perché sta Si sta giocando la vita Cosa rischia Che spesso sottovaluta Beh Rischia di Rischia di Soccumbere in un processo Che magari avrebbe potuto vincere Perché magari Il suo avvocato Non ha portato le prove Non è in grado Di muoversi in tribunale Di discutere Una causa Non è esperto In quella materia Quindi io credo Che affidarsi a un dilettante Costa il doppio Rispetto a un professorizzo Secondo Non deve utilizzare I figli Come merce di scambio O terreno di vendetta Terzo Deve continuare A rispettare L'ex conige Perché Un matrimonio Può finire Ma non è giustificabile Strappare un capitolo La propria vita E sporcarlo Wow Ho visto che ci tieni Anche all'altra parte Alla tua parte Sei un avvocato Invece Quali errori Non deve fare Ma L'avvocato Innanzitutto Deve essere autorevole E non deve mai Subire la volontà Del proprio assistito E diventare il killer Del proprio assistito Prendere o lasciare La strategia La decido io Poi Non deve mai Venire meno A quello che è un codice Etico E di comportamento Per cui Non devi mai Utilizzare I figli Il tuo cliente Per farla pagare All'altro Terzo Non devi mai Confezionare Denunce Calugnose E scrivere cose Chiari ha più opzioni Ormai Ormai conosco molto bene L'ambiente Ho visto che ci sono tantissimi uomini Che vivono di espedienti Si fanno la menza dei poveri E la carita Si sta facendo qualcosa State provando anche voi Stiamo lavorando Consideriamo che esiste Il gratuito patrocinio Nel nostro paese Per coloro i quali Hanno un reddito Basso E' possibile Farsi difendere Da un avvocato A spese dello Stato Ovviamente Non tutti gli avvocati Sono nell'elenco Di coloro i quali Patrocinano A spese dello Stato Però l'Ami E' un'associazione Fatta anche di tanti giovani Giovani preparati Abbiamo un nostro sito Abbiamo tante informazioni Utili Su www.ami.centraliavvocati.it Si possono trovare Tante informazioni Cioè non è detto Che devi per forza Andare dal numero uno Ci sono tanti avvocati bravi Dell'associazione Che ti danno una mano Adesso i miei libri Ma quello che noi pubblichiamo Sui social Quello che pubblichiamo Sul sito Sono già delle informazioni Gratis che noi diamo Perché quello che conta Soprattutto è la prima informazione Perché dalla prima informazione Cambia proprio il destino Della tua vita E poi Io credo che un avvocato Che ha dignità Che attoga Difende anche le persone Senza soldi Ci sono momenti In cui difendi anche Senza farti pagare Perché un bravo avvocato Deve fare anche questo Stiamo Sentendo lo spessore Del vero professionista Quando io vi parlo Di Italia Vale E vi dico Che le storie Sono importanti Che raccontarsi È importante Ve lo dico Per quello che state provando In questo momento E ogni volta Che ci seguite Nelle varie puntate Del caffè In base all'argomento Trattato Perché sentire Parlare Un professionista In musica Capisci come funziona Il suo lavoro È un professionista Che si racconta Non usa Le parole a caso Sono figlie Di un'esperienza Di un vissuto E lì davvero capisci Che anche le professioni Sono più complesse Di quello che immaginiamo Che immaginiamo Avete visto Quanto ha insistito Anche Gianetto Regassani Sul concetto Di specializzazione Che vale per gli avvocati Ma credo valga Per tutti i mestieri Soprattutto in un mondo Che cresce rapidamente Ed è globalizzato Siamo Andiamo verso I momenti finali L'occasione L'uscita di questo nuovo libro Che può essere anche Un ottimo regalo Di Natale Perché insomma Ci riconsegna anche Uno spaccato Di come è cambiata La nostra società La guerra dei rossi Proprio in un momento Così particolare Sta andando a ruba Sta andando a ruba Sì quindi può essere Davvero Un bel regalo E Gianettore Obiettivi per il futuro Su cosa stai lavorando Un sogno nel cassetto Che vorresti realizzare Dentro questo tuo mestiere Ma anche in qualità Di punto di riferimento Dell'Ami appunto Ma il mio obiettivo È quello di creare Una scuola di genitori La procreazione Non ti fa diventare Padre o madre O meglio Ti fa diventare Padre o madre Ma non papà e mamma Che sono due cose Molto diverse Abituare la gente A sapersi rapportare Con i propri figli Questo è il mio primo obiettivo Perché ho visto Troppa sofferenza Dei bambini nei tribunali Quando i bambini Vengono messi In questi tritacarne Di psicologi Psichiatri Assistenti sociali Escono diversi Da come sono entrati Io credo che i genitori Debbano evitare Assolutamente Di scontrasti Per i figli Perché quello che ho visto In questi anni È stata una guerra Senti il danno più grande Spesso che a volte Magari lo ritrovi proprio Nelle ragioni Della separazione Perché quell'uomo È fatto in quel modo E quella donna Fatta in quel modo Sono stati bambini Anche loro Il danno più grande Che si fa ai bambini A cui bisogna stare Io lo scrivo nel libro E soprattutto Disimpegnarsi come genitori C'è la storia di una madre Che a un certo punto Abbandona un figlio L'abbandona L'abbandona Completamente Lo ripudia Perché è troppo simile A suo ex marito Wow Rivede nel figlio Il marito E lo abbandona Terribile È la storia Di uno psicologo Che mi scrive Una lettera bellissima E mi dice Ho 28 anni Ho vissuto Come un aborto Da figlio vivo Cioè mia madre Mi ha abortito Quando ero già nato E purtroppo Queste sono cose Che succedono Molto più spesso Di quanto si possa pensare Così come tanti padri Abbandonici Insomma In questo libro Io non parlo soltanto Della crisi di coppia Parlo anche Della crisi Tra genitori e figli E spesso I genitori Sono quelli Che vengono meno A dei doveri Naturali Perché amare un figlio Dove essere un istinto E purtroppo Così non è Ci sono tanti figli Traditi dai genitori Ci sono Ad ascoltarci Probabilmente anche Genitori Che hanno figli giovani Giovani coppie Che stanno per fare il passo Che magari sono fidanzati Mi ha colpito Il modo in cui Tu hai aperto Tu hai detto A me preoccupa Molto di più Non chi si separa Ma chi si sposa Allegramente Con leggerezza Allora Ecco ti chiedo In questi minuti finali Qualche riflessione Qualche input Da dare ai genitori Che stanno portando I figli al matrimonio Agli stessi ragazzi Che magari si amano Sono fidanzati E stanno per fare questo passo C'è qualcosa Che dobbiamo imparare A volte anche Dalla cultura Non italiana Anglosassone Addirittura americana Ci può essere un modo Per costruirlo meglio Il matrimonio In maniera preventiva Ma io credo Che innanzitutto Il matrimonio Non deve essere celebrato Solo per avere Una fede al dito O per essere accettati Dalla comunità Come persone sposate Come se chi non si sposi Poi possa essere diventato Possa essere considerato Un cittadino Di serie B Il matrimonio È una cosa seria Ci si può anche Non sposare La vita Ma se ti sposi Ci devi credere Purtroppo noto Che c'è un atteggiamento Consumistico Da parte di alcuni Italiani Che pensano Che ci si può sposare Tanto se va male Vai dall'avvocato Cassani E no Così non funziona Perché se poi Metti al mondo i figli Tu fai dei ragazzi infelici Allora È vero La separazione e il divorzio Restano due diritti Come dicevo prima Ma devono essere considerati Come l'ultima spiaggia Poi esistono varie forme Di tentativo Di salvare il matrimonio Con la psicoterapia Uno penserà Ma come Un divorzista Ci viene a dire Come salvare un matrimonio Sì Perché se volete saperlo Cari Dei rispettatori Per me Se la separazione e i divorzi Sono il 10% Del mio fatturato Del mio lavoro Perché Cuovandomi di successioni Adozioni internazionali Sottrazioni Tutto il penale Onestamente Quando ho dei bambini contesi Mi viene quasi una repulsione Lo devo fare Perché è il mio lavoro Ma preferisco Non fare queste procedure E dedicarmi ad altro Perché ogni volta Che entro nei bambini Nella mia vita Io non riesco più A staccare il mio pensiero Dalla loro storia Perché Chiudo lo studio Ma me la porto appresso Quando torno a casa Quando giro per Milano Per Roma Diventa un tormento Gian Ettore Si può fare qualcosa di pratico Io dico anche a livello Proprio contrattuale No? Purtroppo no Per evitare problemi? Purtroppo E ti anticipo I patti per matrimoniali Purtroppo Il nostro paese Non sono ancora consentiti Perché siamo sempre Gli ultimi del mondo occidentale Per cui Vige la legge dello Stato Vige la legge dello Stato Che regola il matrimonio Invece sarebbe preferibile Introdurre anche in Italia Visto che da anni se ne parla I patti per matrimoniali Perché patti chiari Matrimonio lungo Si potrebbero stabilire Le regole del matrimonio Del post matrimonio Prima E potremmo Evitare di singolfare I tribunali E ormai tutto Già è stato chiarito E invece Ogni volta Sei costretto a scontrarti In tribunale E fare la terza guerra mondiale Per stabilire l'assegno La casa L'affidamento E questa è una cosa Che non fanno neanche le star Perché ogni tanto Questi ragionamenti Li sentiamo Sui grandissimi imprenditori Grandissimi artisti Lo fanno all'estero Se lo fanno Oppure In Italia non vengono riconosciuti A meno che Non siano cittadini stranieri Però Nel nostro paese Se tu vai dall'avvocato Cassani O chi può essere E dici Vorrei Sottoscrivere Un patto per matrimonare Con mia moglie L'avvocato Cassani Dirà Non si può fare O meglio Se lo fai Poi non potrai farlo valere Quindi Io credo Ecco l'Ami La grande associazione Che è l'Ami È stata l'associazione Che si è battuta Per le unioni civili Si è battuta Per il fine vita Perché con Mina Welby E Marco Cappato Abbiamo gerato l'Italia Ho scritto un capitolo Per Mina Welby Mi sono battuto Per il divorzio breve Mi sono battuto Per l'affidamento condiviso Non c'è niente da fare Tutte le grandi rivoluzioni Culturali Nel nostro paese E non solo Dell'Italia Ma del mondo Partono sempre dagli avvocati Ecco perché gli avvocati Sono i primi ad essere arrestati E uccisi Dai tiranni La rivoluzione francese L'hanno fatta gli avvocati Incredibile Mandela era avvocato Gandhi era avvocato Un orgoglioso E' uno che ci crede Assolutamente si Porto sempre con me La spilla dell'agio Perché per me Questa è come una La toga per l'avvocato Deve essere una seconda pelle Non un pezzo di stoffa Bellissimo Perché poi tu sai Sugli avvocati Nel Pur parler popolare Non sempre Non se ne parla bene Ma è un classico Perché succede? Sono gli iscritti all'albo Che sono una cosa Poi ci sono gli avvocati Che sono la minoranza Che sono un'altra cosa Perché purtroppo La facilità di accesso Alla professione di avvocato In questo caso Nel nostro paese Ha creato molti problemi Perché in Francia Che sono meno Degli avvocati Che stanno a Roma Eh sì Circola questa cosa Essere avvocati È un fatto di enorme prestigio In Italia a volte È diventata quasi Una sorta di Professione ripiego Quando poi alla fine Della fiera Per un fatto fisiologico Lavorano Non tanti avvocati Ciò significa quindi Che non serve sfornare Avvocati come il pane Ma serve sfornare I veri avvocati Che è un'altra cosa E se non succede Bisogna fare come Gianettore Gassani Essere bravi A diventare anche Comunicatori A far vedere Cosa c'è dietro la toga Come si indossa una toga Come gli si dà sostanza A scrivere magari Delle pagine Dove si mette la faccia Il proprio lavoro Ecco Io questo lo dico per mestiere Le storie insegnano Non è un caso Che oggi siamo qui Con Gianettore E ci siamo incontrati Perché stiamo cercando anche Di mettere insieme Questa Italia che vale E farla parlare Ecco Una riflessione A te Gianettore Che sei un conoscitore Anche del paese E come usciremo Da questo covid Come potremo uscirne bene Cosa dovrà fare questo paese Per diventare migliore Perché il covid è stato Un po' il pettine Dove si sono fermate I nodi che c'erano già E noi a volte Tutte le crisi Le ricondiciamo al covid Ma questo paese Viaggiava già male Prima del covid Cosa possiamo fare Per ripartire Per rinascere Ma dobbiamo avere fiducia Innanzitutto gli italiani Si riprendono sempre Dalle sciagure Nel dopoguerra Siamo diventati Una grande potenza mondiale Il boom economico E non sempre Le tragedie Portano altre tragedie A volte forse Ci si mette in gioco In discussione Certo io vedo Certo io vedo molta Paura Molta insoddisfazione Molta miseria In questo momento Ci stiamo leccando le ferite Ma io sono molto ottimista Perché l'italiano È un po' come i gatti Care sempre con le quattro zampe E questo avviene Nel nord Nel centro Nel sud Abbiamo tra l'altro Un territorio Una cultura Una fantasia Che non ha nessun altro popolo Al mondo Per cui Gli italiani Sanno rinnovarsi Io sono un po' preoccupato Per gli anziani Per i bambini I bambini Che non sono più andati a scuola In effetti Se non per qualche giorno E che vivono La loro solitudine Le loro camerette E gli anziani Che hanno rischiato di morire Hanno perso tanti amici Ecco Dobbiamo stare molto vicini Ai soggetti deboli Per quanto riguarda l'Italia Beh io adesso Che in questo momento Mi trovo a Milano Mi fa molto male Vederla così Come fa male Vedere qualsiasi altra città Perché Milano Che è un motore economico Dell'intero paese Se si ferma È come un orologio Che si inceppa Ma sono convinto Che i milanesi I lombardi Gli italiani In generale Hanno tutte le risorse morali E di fantasia Per riprendersi Gianettore Te lo chiedo davanti Alle telecamere Perché è troppo prezioso Il tuo impegno E la tua professionalità Per non averti con noi Ci dai una mano In Italia che vale In questo club ideale Che sto provando A creare Mettendo insieme La meglio Italia Dei professionisti Di chi ci crede come te Ma io lo farò Con grande piacere Perché ho capito Il tuo grande progetto Ho capito il tuo grande impegno sociale E civile Da uomo del sud Coraggioso Che è venuto a giocarsi La propria vita Le proprie carte A Milano E chi viene a Milano È sempre una persona vincente Perché te la viene a giocare In un ambiente difficile Un ambiente competitivo E io sono convinto Che gli italiani Che vengono a Milano Vengono sicuramente Per crescere E questa è una città Che aiuta Aiuta tantissimo E accoglie E accoglie tutti Lavoriamo per creare Ulteriori Milano Per fare in modo Che questo approccio Non a caso costruito Da tantissimi italiani Di ogni dove Diciamo Possa esprimersi In altri luoghi Perché vogliamo Che vinca davvero Tutto il paese Grazie davvero Gianettore Buone feste E ci ritroviamo Al prossimo libro Tanto so che È già magari Nella testa Grazie A presto Ve lo faccio vedere Intanto questo Che può essere davvero Un buon pensiero Per il Natale Ma anche per capire Ancora di più Il valore Di questa categoria Degli avvocati italiani Nel nostro paese Che chiaramente Riportano anche Tutto l'umanesimo Tutto il modo Di essere geniali All'italiana Un caffè che vale Espresso Scende Moccasale Serve a farci avere Quella marcia In più Un caffè che vale Senza esagerare Serve a questa Italia Per tenersi su Un caffè che vale Rito nazionale È un caffè che vale Grazie a te Grazie a te